Ha deciso di scendere in campo in prima persona in vista delle prossime elezioni amministrative di Cuneo, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle. Come è maturata questa decisione? Io e le persone che poi seguiranno intendiamo la politica come spirito di servizio. È un impegno molto grande per tutti quanti. Bisogna ascoltare le proposte, tradurle in azione politica, difendere i nostri principi e valori, però, lo facciamo nell'esclusivo interesse della cittadinanza di Cuneo. Per chi ci ha seguito in questi dieci anni, saprà che noi abbiamo sempre dato molto ascolto ai cittadini e alle associazioni. Negli ultimi quattro anni e mezzo, da quando sono state elette, abbiamo tradotto queste istanze in azione politica, presentando ben 154 tra interrogazioni e ordini del giorno. Abbiamo rendicontato tutto e stiamo costruendo e scrivendo un programma partecipato. Quello che la gente ci chiede è che dovremmo fare utilizzando in modo diverso le grandi risorse che arrivano dal Piano Nazionale di Investimenti, chiamato PNRR, e migliorare la vita della gente, migliorandola con le cose che ci chiedono, più attenzione alle manutenzioni, dalle strade al verde pubblico, più verde diffuso. Non tutti possono accedere ai grandi parchi. La pulizia della città, la sicurezza, l'incremento dei servizi per l'infanzia e le scuole sicure per i giovani. Un'altra parte del programma che noi andremo a portare per le elezioni è la distribuzione sul territorio in maniera più equa di tutti gli eventi che ci sono nella città di Cuneo, che sono tanti, in maniera da ottimizzare anche la distribuzione delle parti periferiche, portando gente per i vari eventi che verranno inseriti nelle scalette. Togliere Cuneo dall'isolamento potenziando spostamenti con i treni Pullman e aeroporti con varie coincidenze, ripristinando la linea sospesa tra la Cuneo-Mondovì, potenziando la Cuneo-Nizza e anche la Cuneo-Torino e inserire i treni viaggiatori da Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Cuneo per antonomasia è riconosciuta come la città delle famiglie. Noi pensiamo di avere un occhio particolare per risolvere dei problemi spinosi, come vengono avvertiti quelli della sicurezza e dell'immigrazione, con un occhio diverso di come è stato fino adesso. Un punto importante sarà anche i giovani, vogliamo cercare di convincere quelli demotivati e sfiduciati a credere nella politica di questa città, di questo paese.